Radio Salerno 24 Radio Salerno 24 Siete all'ascolto di Radio Salerno 24 Radio Salerno 24 Eccoci qui di nuovo in diretta, ci eravamo scollegati per un po' Siamo ritornati in live su Facebook Sì, mi ascoltate? Ok, va bene così Niente, dicevo, ci eravamo scollegati per un po' dalla diretta Problemi tecnici, il bello della diretta succede E volevamo ricordare i numeri di telefono per interagire con noi Per la diretta il 331 99 008 55 Per i messaggini o dediche o magari richieste musicali su Whatsapp Il 338 20 59 142 Di tu qualcosa? Alessio con Baby Baby Baby, l'ho lasciata Baby L'ho tradita Baby Sono qui a tuoi piedi Per amore Dimmi, dimmi, c'è qualcuno che ti ama E la sera e la notte chi ti chiama Chi ti vuole, chi ti prende, chi ti tocca Se ti sogna, ti dà un bacio sulla bocca Dimmi, dimmi, c'è qualcuno che ti ama E la sera e la notte chi ti chiama Chi ti vuole, chi ti prende, chi ti tocca Se ti sogna, ti dà un bacio sulla bocca Bevi, strepitosa bevi, prendi ma non chiedi, sei tremenda bevi, vinci sempre e scendi, sto aspettando scendi, che si va a ballare, tu ti arriva a mare, questa notte resta con me. Ricordiamo ai nostri amici radioascoltatori che noi siamo in diretta e stiamo trasmettendo dalla città di Torra Annunziata. Sì. Per questo pomeriggio napoletano, Francesca. Sì, in compagnia dell'amica Francesca per l'appunto e di Angelo. Esattamente, sono le ore 18 e 23 minuti, ci stiamo ascoltando Alessio con Baby, una bellissima canzone, il reggaeton. Nuova? Sì, non proprio nuova, è uscita un bel po' di mesi fa. Ok, mi devo aggiornare un po'. Sì, non proprio nuova, è uscita un po' di mesi fa. Ho bisogno di te, Baby, non te ne andare adesso, resta con me. I love you. Dimmi, dimmi, c'è qualcuno che ti ama? E la sera è la notte che ti chiama. Siete all'assorto di Radio Salerno 24. Siete all'assorto di Radio Salerno 24. Francesca. Sì, io mi ritrovo con un jack in mano. Questo jack delle dirette telefoniche. Ok, allora non serve. No, no, non serve. Non so, ce l'avevo in mano così ho chiesto educatamente. Sì, sì, molto bella, molto bella. Dimmi, dimmi. Cosa vogliamo dire in diretta? Eh, cosa vogliamo dire? Seguiteci, seguiteci, chiamateci, mandateci i messaggini su WhatsApp, ripeto, i contatti telefonici per chi volesse interagire tramite messaggino o richiesta musicale in privato. Lo può fare al numero WhatsApp, il 338 20 59 142. Se volesse intervenire con la diretta può digitare il 331 99 00 855. Sono stata brava? Esatto, e siamo anche ascoltabili sul nostro sito ufficiale che è il www.telesalerno24web.weebly.com. Ok. Arriva adesso Sia Vida Mio. La canzone è quella di Leo Ferrucci però con la collaborazione questa volta... Della bravissima Rossella Feltri. Eccola qui, per voi. Sia Vida Mio. Proveri mi vuole la giamata. Fraguanataggia conosciuta. Fraguanataggia conosciuta. Ma sono carina niente innamorata. E sono rimasto a fianco a te. Cavana senza più paura. Paceva brillare due stelle. Sia Vida Mio. Per uscire in gasta la mano. Tu sei anche un bella cosa che vuoi esistere. Tu mi zi prete in rosso sai fa nascere. Sono stata infortunata a te incontrar. Chi sai che mi poteva capitare. 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 E quando chiudo l'occhio voglio avere Stavano tu che cerca A me Stasera sono tornato già tardi E tu hai già pensato di dolente Ma sono messo a fianco a te Calmanando a rendere il suono E mentre mi sciavano il respiro Ma sono addormuto a carazzare non mi puoi uscire E quando a prima mattina mi sono sciatata O prima raggi è sola Io L'ho portata a te Soltata a te Sia vita mia Tu sei una gelosa E l'intestata Tu sei più bella cosa Che vuoi esistere Tu mi riprendi il rosa Sai fa nascere Sostante fortuna La te l'incontra Chissà chi mi poteva Capitare Se non mi avesse Busso Da te Ritorniamo in diretta con questa bellissima canzone Sia vita mia Rossella Feltri In collaborazione con Leo Ferrucci Francesca Sì questa canzone in primis era nata con la sola voce di Leo Ferrucci Esattamente Bella cosa Questo fatto del duetto in collaborazione con Rossella Feltri E leggo che il CD è stato fatto per metà da duetti con lei E altri artisti importanti della canzone partenopea Come Franco Moreno Nico Desideri Ricordiamoli Luciano Caldore Natale Galletta Mimmo Dani Ciro Rigione Franco Ricciardi Ok Ok Mentre la seconda parte invece le canzoni sono state tutte scritte dal maestro Antonio Aprile Sì E Palumbo Grande amico Antonio Aprile Vado a salutarlo Ciao Tony Un applauso per loro che sono veramente dei grandi maestri della canzone partenopea E infatti infatti Si ferma l'orologio Infatti ora ci fermiamo anche noi Ci fermiamo anche noi giusto Ore 18 e 29 minuti primi Ecco ci fermiamo pochi minuti con la pubblicità Tra poco con il programma pomeriggio napoletano in diretta qui sul radio Salerno 24 a poco 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 Non ci lasciate ascoltateci Pubblicità Eh sì Dotolo Mobili non finisce mai di sorprendere Tutto a conto zero Interessi zero Veri Per gli sposi Dotolo Mobili è per sempre È per tutta la vita Dotolo Mobili Vi aspetta nei suoi spazi stupendamente arredati di oltre 30.000 metri quadri A Foggia Benevento Bellizzi di Salerno Zone industriale Teverola E Passo di Mirabella Aperti la domenica Shopping.dotolomobili.it I grandi cambiamenti avvengono guardando il mondo in modo diverso Immagina un lunedì mattina da sogno Un traffico rilassante Un parcheggio emozionante Tutto diventa possibile se cambi il tuo punto di vista Ogni giorno diventa meraviglioso Con nuova Seat Ateca Nasce il primo SUV creato a Barcellona Scoprilo anche domenica e su seatitalia.it PDM concessionaria Seat Via Parmenide 270 Salerno Telefono 089 33 93 73 Il comune di Conca dei Marini L'assessorato al turismo della regione Campania Promuovono la rassegna Santa Rosa Conca Festival Musica, teatro, eccellenze Una serie di emozionanti eventi Lunedì 3 ottobre Presso l'hotel Conca Azzurra La quinta edizione del concorso gastronomico nazionale Santa Rosa Conca Festival Alle ore 17 All'opera I più importanti maestri pasticceri italiani Per info www.santarosaconcafestival.com Dental4 Dental4 è a Salerno in via Fiume 92 E in via Togliatti 11 a Castel San Giorgio Salerno Per informazioni 089 99 51 867 Web dentalfor.it Dental4 esperienza, qualità e professionalità nelle forniture dentali Il 30 settembre si avvicina Hai consegnato la scheda raccolta punti per partecipare all'estrazione Fra tutti coloro i quali hanno partecipato alla raccolta punti 2016 Dental4 della centrale del latte Anche consegnando una sola scheda e di qualsiasi punteggio sarà sorteggiato un super fortunato vincitore di una Opel Adam Del valore di 16.500 euro Allora affrettati Raccogli i punti sui prodotti della centrale Ritira i tuoi fantastici regali e preparati a salire a bordo della fantastica Opel Adam Messa in palio dalla centrale del latte di Salerno Più schede consegni, più possibilità hai di vincere La centrale del latte di Salerno è sempre vicino a te L'iniziativa scade il 30 settembre Valore Montepremi concorso euro 16.500 Info e regolamento integrale sul sito www.centralelatte.sa.it Entra nel mondo del risparmio Vieni al Market Doc Al Market Doc troverai un'infinità di prodotti di qualità in offerta speciale Dal 20 settembre al 2 ottobre Bassi Bassi Doc Olio extravergine d'oliva stillati da un litro 3,69 euro Baschetta gelato Cardor da un chilo 2,79 euro Culatello Kings 2,29 euro Latte fresco Zimil da un litro 1,59 euro Latte UHT Berna da un litro per 6 3,89 euro Pasta di semola a barilla 5,55 centesimi Farina di frumenta tipo 00 1,40 centesimi Fanta da un litro e mezzo Vari tipi 1 euro Super Doc solo il 26,27,28 settembre 2016 Grana Padano riserva 20 mesi 89 centesimi Market Doc Un nuovo modo di fare la spesa Siamo a Battipaglia in via Belvedere 233,245 Uscita autostradale per Battipaglia direzione Bellizzi O uscita per Monte Corvino direzione Battipaglia Ampio parcheggio gratuito Market Doc Il fiocco della freschezza Seguici anche su Facebook Ceramiche, parquet, pietre Il Decoro Arredo bagno Rubinetterie Igenici sanitari Il Decoro Ducce, vasche, wellness Il Decoro Un percorso di idee per dare forma alle vostre esigenze Il Decoro Cavalcavia di Mercatello Salerno Vasto assortimento di...